Sequestrati computer e cellulare del 15enne in carcere per l'accoltellamento a Mogliano, domani udienza di convalida per il 15enne accusato dell'aggressione. Intanto migliorano le condizioni della 26enne accoltellata, l'amica del cuore, il risveglio di Marta e la fine di un incubo, ti aspettiamo con ansia. L'RT del Veneto inizia a scendere, Zai e siamo in bilico tra zona rossa e arancione. Intanto continua la campagna vaccinale, dose anche agli accompagnatori per gli over 80 se hanno più di 65 anni. Vaccinazioni e code, disagi nella marca, il direttore generale dell'Ulss costretti all'overbooking per compensare le defezioni. Da martedì al via la nuova piattaforma online per le prenotazioni. Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Laganà sui controlli per il periodo pasquale ed il problema delle aperture abusive dei ristoranti. Due studenti non hanno esitato a fermare un ladro in fuga che aveva appena rubato prodotti cosmetici in un'attività. È accaduto a Conegliano, i giovani premiati con buoni spesa dal negozio. Il videotrap tra inia la droga e pistole, i protagonisti multati con una sanzione da 800 euro a testa e segnalazione alla procura. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano ancora l'accoltellamento a Mogliano e la fine di un incubo così a Marocco dopo il risveglio di Marta Novello. A parlare è la sua migliore amica, la aspettiamo con ansia, dice domani intanto l'udienza di convalida per il quindicenne accusato dell'aggressione. È la fine di un incubo, sì, quasi un miracolo direi. Sono stati due giorni terribili, immagino. Sono stati due giorni che preferirei non ricordare, decisamente, perché mi manca la mia metà. Aspetta con ansia di rivedere la sua migliore amica fuori dall'ospedale, Maria Sole, con lei un'intera comunità, quella di Marocco, ancora sotto shock per la brutale aggressione a Marta Novello. Direi che 24 anni sono tanti insieme e vorrei farne almeno un'antri 40, tra risate, scherzi e tante, tante, tante stupidaggini. Dopo il risveglio e il veloce saluto ai genitori, la 26enne resta ricoverata in terapia intensiva. I suoi parametri sono buoni e respira in maniera autonoma, ma è ancora troppo presto per sottoporla allo stress di una testimonianza, mentre è fissata per domani a mestre presso il Tribunale dei minori l'udienza di convalida per il quindicenne accusato dell'aggressione e attualmente in carcere. I nodi da chiarire restano tanti, innanzitutto il movente. L'ipotesi principale, ma non l'unica, per i carabinieri resta quella della rapina, anche perché al momento non ci sono evidenze che i due si conoscessero. Non lo so e non lo sappiamo. Non lo so, giuro. Scelgono la via del no comment i genitori di Marta, mentre la madre del ragazzo, barricata in casa, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera raccontando di un figlio cambiato a causa della didattica a distanza, ma non un bullo, negando problemi economici. Forse un aiuto arriverà anche dall'analisi del traffico dati su cellulare e pc del sedicenne, posti sotto sequestro. In attesa di chiarezza si tira però un mezzo sospiro di sollievo, come fa Angela, un'altra amica di Marta. Siamo tutti sconvolti, anche perché quella era una strada che facevamo tutti per andare a camminare. Io ero tornata poco mezz'ora prima, dallo stesso giro, quindi cercheremo anche di capire bene come sono andate le cose. Aspettiamo e speriamo, siamo fiduciosi. E quanto alla dinamica dell'aggressione, emergono nuovi particolari providenziali. L'intervento di due operai, come racconta l'edicolante, che ha accolto il loro sfogo subito dopo l'accaduto. C'è che loro si sono fermati in mezzo alla strada perché hanno visto una bici di traverso in mezzo alla strada, pensando che si trattasse di un incidente. Invece quando sono scesi dalla macchina hanno visto che c'era il ragazzo dentro il fosso che si accaniva sulla povera ragazza. E loro sono intervenuti, l'hanno bloccato. Probabilmente forse gli hanno anche salvato la vita perché se lo lasciavano continuare chissà cosa poteva fare, insomma. Ha raccolto lo sfogo dei due operai che hanno salvato la vita Marta Novello, Leonardo Gazzetta edicolante e tabaccaio a Marocco. Qui lunedì sera i due si sono fermati, erano ancora scossi per quanto successo e hanno acquistato delle sigarette. Sono stati molto bravi secondo me, hanno avuto anche coraggio perché insomma in una situazione del genere intervenire non è proprio facile. Quando vedi una persona che è fuori di sé e che fa un atto del genere non è che è proprio facile intervenire. Oggi attorno alla famiglia di Marta si è stretta di nuovo l'intera comunità e non solo. Stamattina mi ha chiamato anche il prefetto per portare la sua vicinanza e il suo saluto alla famiglia. Ho chiamato il papà di Marta, Luigi, che anche loro naturalmente rincuorati da questo risveglio e da Marta che si è fatta sentire con la sua voce. A Marocco sulle vetrine dei negozi ci sono ancora i cartelli di incoraggiamento anche se il peggio sembra passato. Un grande sollievo per tutti, una cosa del genere nessuno immaginava. Chiestare sui obbing e basta perché è una fia meravigliosa, basta. E gli auguriamo una guarigione completa. Restano però pesanti interrogativi e delle ombre. Purtroppo però ci sono anche dei giovinastri che girano delle volte in quartiere, oppure nelle vicinanze della scuola di là. Mi fermo lì. Perché è una cosa che mi sembra inspiegabile dal punto di vista di una società normale. Ed ora l'epidemia di coronavirus. L'RT del Veneto comincia a scendere. Siamo in bilico tra la zona rossa e quella arancione. Il punto in sede della protezione civile a Marghera del presidente della regione Zaia. Le proiezioni che abbiamo sono di un R con T ai limiti della zona arancione, cioè di regressione. L'incidenza resta ancora intorno ai 2,50. Reduce da un incontro con governo e colleghi presidenti delle regioni sul decreto sostegni questa mattina, il presidente Zaia annuncia l'abbassamento dell'RT in Veneto sotto la soglia critica di 1,25. Un numero tale da rimettere in discussione la permanenza della regione in zona rossa con tutto quello che ciò comporterebbe. Fuori dalla sede di Marghera la protesta delle partite IVA del mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Le molle di finanze stanziate sono importanti. Non ho ancora ben capito, anzi non abbiamo ancora ben capito come arriveranno e su quale base saranno distribuite. Si dice che se sono abbandonati i codici a teco si andrà sui fatturati, però penso che la miglior soluzione per aiutare queste imprese sia quella di aprire e poi no alla fine. Rimane confermato il colore rosso per i giorni di festività di Pasqua e Pasqueta, indipendentemente dalla decisione di domani del CTS. Grande solidarietà il comparto da parte di Zaia che ha confermato la spinta alla campagna vaccinale per uscirne. Vi dico che su 60.000 posti di lavoro che abbiamo perso in Veneto ad oggi, 35.000 vengono dal comparto del turismo. Con un virus che sta incidendo in Veneto per il 4% sui tamponi effettuati, 1.861 nuovi positivi nelle 24 ore e 685.000 le dosi somministrate di vaccino, l'annuncio di Zaia, l'estensione alla vaccinazione per gli over 65 conviventi degli ultraottantenni che saranno chiamati a vaccinarsi. Se c'è un over 80 accompagnato da un over 65 è giusto vaccinare anche l'accompagnatore. In giornata hanno confermato di poter sostenere questo sforzo, tutte le USL si partirà con domani. A breve per la somministrazione dei vaccini scenderanno in campo anche i 1.300 specializzanti dell'università. Zaia continua a difendere l'autonomia regionale nella gestione della campagna vaccinale. Il Veneto non ha assolutamente nessun problema. Dall'altro sta farsa, come si può dire, questo refrain dell'accentramento delle competenze mi fa ridere, mi fa venire da ridere. Pensare che la sanità sia gestita dal Ministero della Salute con efficienza la vedo veramente dura. Come t'aprile le vaccinazioni agli over 80 saranno completate 400.000 più 100.000 gli anziani che saranno vaccinati a domicilio. Vaccinazioni, code e disagi nella marca. Il direttore generale dell'Ulss Benazzi costretti all'overbooking per compensare le defezioni di chi non si presenta. 350-400 nuovi positivi al giorno. Il sistema ospedaliero della marca torna ad essere nuovamente sotto pressione, tanto da dover sospendere ancora una volta le attività non urgenti per garantire le cure ai pazienti Covid. Stiamo aumentando i ricoveri, noi ormai siamo intorno ai 280 ricoveri, siamo a 36 persone in terapia intensiva, siamo a 43 persone in terapia subintensiva. Quindi un campanello d'allarme che come giustamente ha detto il Presidente Zaia, ci fa dire da lunedì chiudiamo le attività in ospedale chirurgiche, in modo tale da fare solo urgenze, gli oncologici e il materno infantile. Prosegue intanto la campagna vaccinale, domenica la sperimentazione di vaccinare tutti i nati nel 36, con orario differenziato sulla base del mese di nascita, nelle quattro sedi vaccinali di Oderzo, Villorba, Godega, Sant'Urbano e Riese Pio X. Martedì partirà la nuova piattaforma regionale per le prenotazioni online della vaccinazione, sempre sulla base dell'età o della fragilità delle persone. Possono iscriversi direttamente alla piattaforma oppure chiamare il nostro CUP da martedì e farsi prenotare direttamente in piattaforma. Il nuovo sistema consentirà di evitare i pesanti disagi che si sono manifestati in questi giorni con l'ULS costretta all'overbooking a causa delle defezioni di chi non si presenta. Da quando è successo quel problema ad AstraZeneca, che poi il problema non era, che la gente è diffidente nei confronti di AstraZeneca. Allora noi, quando facciamo una seduta vaccinale e prenotiamo mille persone, noi dobbiamo fare mille vaccinazioni. Allora non vogliamo buttarle via, non vogliamo farle ovviamente ai giovani, perché bisogna fare gli over 75 in su, quindi chiamiamo tutte le persone che sono in lista chiedendo loro un sacrificio di venire di corsa, magari chiamate dalla mattina alla sera, per ovviamente riempire quei buchi che mancano. Intanto si pensa già al futuro, quando la campagna di vaccinazione di massa sarà a regime ed arriverà il caldo. L'ULS 2 è a caccia di spazi ampli, climatizzati e con parcheggi. L'appello è anche ai privati. Ho anche detto ai miei collaboratori, guardatevi in giro, siamo a disposizione di qualsiasi che vuole mettere ambienti di questo tipo, che siano refrigerati, eccetera. Chiedo questo che oltre che essere refrigerati, devono avere un ampio parcheggio, perché l'ampio parcheggio ci dà la possibilità ovviamente di avere più persone contemporaneamente. Le categorie tornano a scrivere al governo, artigiani e commercianti chiedono attenzione nella campagna vaccinale, ma anche la riapertura dei saloni di parrucchiere e poi il caso delle lavanderie. Sentiamo. Artigiani e commercianti, sindacati veneti, hanno inviato una letter al presidente Zaia, l'assessore alla sanità Manuela Lanzarina, il direttore di prevenzione e sanità pubblica Michele Mongillo, per spingere sulla campagna vaccinale e far rientrare le categorie che lavorano con il pubblico tra i soggetti a cui dare priorità. Parallelamente, dagli artigiani è partita stamattina una lettera ai parlamentari veneti, per spingere invece verso una riapertura dei saloni che non stanno lavorando da due settimane. Loro dicono, noi siamo chiusi perché dobbiamo tenere tutte le attenzioni e quant'altro, e si incentiva il lavoro, tra virgolette, insomma, irregolare, e quindi questo non va bene perché oltre al danno ha anche la beffa. È evidente che il provvedimento è nazionale, i parlamentari possono essere attori anche verso il decisore governativo. Insomma, si esercita abusivamente, magari a domicilio, con il rischio addirittura di alimentare il contagio. La conferma arriva dal presidente trevigiano Sartor. Intanto la categoria delle lavanderie lancia un nuovo appello. Sono tra i servizi considerati essenziali, sempre aperti, ma con cali di fatturato impressionanti. Noi siamo legati a filo diretto con tutti quelli che sono il circolo dei ristoratori, dello sport, della montagna. Quindi noi sì, siamo aperti, ma abbiamo avuto cali che per chi è andata bene, verso il 48-50%, c'è chi è andata male, arriva il 70%. Siamo aperti, ma non lavoriamo. A pagare, oltre alle chiusure, anche la diffidenza dei clienti, che temono i capi non siano adeguatamente igienizzati. Da qui la campagna di confartigionato dal titolo Questo è un capo sicuro. Contrare il Covid sul posto di lavoro, la CGL ammonisce a non abbassare la guardia, perché i numeri nei primi due mesi del 2021 sono in consistente aumento nel trevigiano. Infortuni Covid cresciuti nei primi due mesi del 2021 in Veneto, 2946 i casi nella marca sui 16.752 registrati a livello regionale. I dati sono emersi dal monitoraggio sull'andamento e la diffusione del virus nei luoghi di lavoro del Comitato Consultivo Provinciale dell'INAIL di Treviso, un incremento consistente che mette in allarme i sindacati. Sono 2.100 le donne e 820 gli uomini e il dato più alto è che abbiamo avuto 1.280 casi tra le donne tra i 50 e i 64 anni. E quindi è evidente che sono i soggetti deboli che lavorano appunto nel settore socioassidenziale. Con un incremento nel trevigiano del 13,4% rispetto a una media regionale del 9%. La notizia buona è che da marzo si sta già notando un rallentamento, segno che i vaccini nelle strutture sanitarie e nelle RSA stanno iniziando a dare l'effetto sperato. Ma dobbiamo cercare di tenere alta la guardia perché è evidente che finché non avremo una copertura vaccinale seria il problema continuerà a porsi. Chi contrae il Covid sul posto di lavoro ha speciali tutele, ricorda Talmi, che fa sapere inoltre che ancora non si sono verificati i casi di lavoratori che si siano contagiati dopo aver rifiutato la vaccinazione. In quel caso la CGL come si schiererebbe? Noi stiamo dalla parte del fatto che le persone devono vaccinarsi, specie se non vaccinando ti metti a rischio non solo te stesso ma anche altre persone. Però deve esserci una norma di legge alle spalle oppure una norma che obblighi tutti i cittadini distintamente a vaccinarsi. Il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganari, unito questa mattina al Comitato Provinciale Ordine Sicurezza Pubblica per pianificare i controlli sul rispetto delle misure anticontagio per il prossimo fine settimana e per il periodo delle festività pasquali. In particolare è emerso che diversi esercizi di ristorazione provano a deludere il DPCM che prevede la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, pubblicizzando anche sui social il servizio di somministrazione al tavolo anche a titolari di partita IVA o liberi professionisti. Rispetto a questo il prefetto ha diramato recentemente una direttiva ai sindaci per i controlli di competenza e alle associazioni di categoria. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il Tg di Treviso. Ancora cronaca due studenti non hanno esitato a fermare un ladro in fuga che aveva appena rubato dei cosmetici in un negozio. Sì, abbiamo deciso di intervenire senza esitazione perché comunque ci sembrava la cosa giusta da fare. Il diciottenne Nicola Pizzol e il suo compagno di scuola non hanno esitato a mettersi all'inseguimento di un uomo che aveva appena rubato prodotti cosmetici da un negozio poco lontano dalla loro scuola in Viale Venezia a Conegliano. Sono riusciti a bloccarlo e a consegnarlo ai carabinieri. Eravamo in pausa pranzo fuori da scuola quando due commesse sono uscite da un negozio urlando a un ragazzo di fermarsi. E l'abbiamo inseguito per 5 minuti finché è saltato in una proprietà privata. Il malfattore ha pensato ad un certo punto di averli seminati ma i due giovani studenti non si sono dati per vinti. L'uomo dopo aver scavalcato una recensione era riuscito a dimettersi in una strada secondaria ma i due ragazzi sono riusciti lo stesso a raggiungerlo. Lo hanno bloccato e ha atteso l'arrivo della pattuglia dei carabinieri. L'abbiamo seguito finché si è liberato del giubbotto e dello zaino e poi ha provato a nascondersi in un condominio alla fianco. Ma l'abbiamo riconosciuto, ci siamo avvicinati, è iniziato a correre e l'abbiamo fermato in mezzo alla strada. Un gesto di grande valore che denota da parte dei ragazzi un grande senso civico. Gli uomini dell'arma sono riusciti a ritrovare i prodotti che l'uomo aveva tentato di disfarsi per un controvalore di 211 euro. I carabinieri, la società a capo del negozio, hanno voluto ringraziare i due giovani. Abbiamo voluto ringraziarli perché non è da tutti compiere un gesto simile quando hanno visto che le commesse erano in difficoltà e non hanno esitato a mettersi all'inseguimento del malfattore per bloccarlo. Questi ragazzi sono un esempio di etica e correttezza. Il videotrap tra inni alla droga e pistole. I protagonisti, lo ricorderete, fece molto scalpore questo video un paio di settimane fa, sono stati quindi i protagonisti multati con sanzioni da 800 euro a testa e una segnalazione alla procura. La questura di Treviso ha deciso di procedere nei confronti di quattro giovani senegalesi e di tutti poco più che ventenni a seguito della pubblicazione ai primi di marzo di un loro video musicale, Cash. Un rap tra pistole finte e inni alla droga da 10.000 visualizzazioni in pochi giorni che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Treviso, Mario Conte. I ragazzi, protagonisti sulla scorta delle indagini che sta conducendo la squadra mobile, grazie alla visione dei video e all'identificazione di ciascuno di loro, hanno dato vita a pericolosi assembramenti, senza mantenere il distanziamento e senza mascherine. Per loro sono scattate le multe, 800 euro a testa più la segnalazione alla procura della Repubblica. I carabinieri della stazione di Zero Branco hanno identificato i due minorenni della zona, appena sedicenni, che lo scorso 28 febbraio si erano introdotti all'interno degli impianti sportivi di Sant'Alberto, rompendo i lucchetti dei cancelli d'accesso ai campi da calci e forando, rendendole inservibili, una decina di sagome gonfiabili in gomma usate per gli allenamenti per un valore di circa 2000 euro. Scattata a carico dei due ragazzi, la denuncia per danneggiamento aggravato. Ha ripreso a funzionare il riscaldamento al condominio dell'Estiore a Treviso. I residenti, lo ricorderete, ci avevano contattato per denunciare la grave situazione che si era venuta a creare a causa della morosità di alcuni condomini. Volevo ringraziare Antenna 3, anche se ad oggi abbiamo ancora dei dubbi per l'anno prossimo se il riscaldamento ci sarà o meno. Al Palazzo Ostiore a Treviso è ritornato, dopo oltre due settimane al freddo, il riscaldamento. L'amministratore Alessandro Meo ha chiesto ai condomini, proprietari e inquilini di versare una nuova rata straordinaria di acconto sulle spese del 2021, la seconda, così da coprire almeno in parte il buco da 42 mila euro con l'azienda di fornitura del gas. Desidero ringraziare i condomini e gli inquilini che in pochi giorni mi hanno permesso di risolvere il problema. Un grazie va anche ad Antenna 3 che mi ha permesso di far emergere il problema. E un grazie a Meo lo esprime anche al Comune, al Sindaco Mario Conte, che si è subito attivato per contribuire a sbloccare la situazione. I condomini più volenterosi hanno versato una nuova quota da 250 o 500 euro, ma tra i residenti c'è il timore che il problema si ripresenti nuovamente. La regola è che questo è una percentuale elevata di persone che non le pagano. Se ci sono delle insolvenze pesanti, se non si risolvono quelle insolvenze, è logico che il problema si difetterà sempre. Quelli che pagano chiedono misure drastiche per i morosi e l'amministratore si dice intenzionato a seguire proprio la strada del rigore. In questo caso si parla di un interlegale che passa dal decreto ingiuntivo fino alla vendita all'asta dell'immobile del moroso. Per fortuna alcuni di questi morosi hanno accettato di fare un rientro rateale. e anche questo fatto mi ha permesso quindi di affrontare questo problema e risolverlo in un tempo molto breve. A Maserada ora tanti auguri a nonna Assunta Piccoli per i suoi 101 anni. Qual è il segreto per arrivare a 101 anni? Ma ho sempre lavorato, ho sempre fatto qualcosa. Non si è mai risparmiata nonna Assunta e proprio al tanto lavoro attribuisce il merito della sua longevità. 101 anni festeggiati nella sua casa a Maserada dove ora vive dopo essersi trasferita da Vasconna. Rimasta vedova a soli 49 anni Assunta Piccoli, non ha mai avuto il tempo per riposare. Tre figli da crescere, il lavoro nella falegnameria del marito e poi la casa e la campagna. Pensava di averle viste tutte nella sua lunga vita nonna Assunta ed invece si è trovata anche a vivere la pandemia. E quello del 2021 è stato il secondo compleanno festeggiato senza quel banchetto che avrebbe desiderato. Dovevamo festeggiarli in ristorante e anche l'anno scorso niente da fare. La torta e basta, la casa e basta. E così nonna Assunta ha festeggiato con gli abbracci virtuali dei figli, dei sette nipoti e di tutta la comunità. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. La cronaca in primo piano, grosso incendio alla Casa Grande di Paludi dal Pago, importante azienda che si occupa della gestione del recupero e del trasporto di rifiuti e rifiuti speciali. L'allarme è scattato attorno alle 14.30 ed ha fatto convogliare nella zona una decina di mezzi dei vigili del fuoco e 25 uomini che hanno domato le fiamme e avviato la bonifica del sito. Secondo le prime informazioni, il rogo potrebbe essere stato causato dall'autocombustione di pannelli di plastica e per questo il personale dell'ARPAV ha eseguito campionature dell'aria per scongiurare ogni rischio di inquinamento ambientale. Nessuna persona è rimasta fortunatamente coinvolta. Le indagini sono in corso, i rilievi sono eseguiti dai carabinieri. La società a Casa Grande è molto nota in tutto il Veneto. I suoi impianti per lo smaltimento sono anche a Vittorio Veneto e a Cordiniano. La didattica a distanza è un problema per molte famiglie e molti primi cittadini lo avvertono anche accogliendo gli studenti in municipio per permettere loro di usufruire di una migliore connessione. Didattica a distanza è stata necessaria, è stata vissuta. Si fa fatica a pensare che possa rappresentare il futuro dell'educazione scolastica. Nei paesi di montagna credo sia opportuno dare ai sindaci la libertà di poter scegliere anche sulla base dei numeri che ogni comune ha. Io credo che nel mio comune ci siano tutti i presupposti e requisiti per permettere ai genitori di portare i figli a scuola. Le scuole si sono dimostrate un luogo sicuro e laddove si sono verificati dei problemi è subito intervenuto la scuola. I ragazzi sono stati sottoposti a tamponi, in alcune situazioni le elezioni sono state sospese ma anche nei casi in cui ad esempio a dicembre 2020 si sono raggiunti i picchi di contagi la scuola ha continuato ad andare avanti. Cosa potranno comportare due anni vissuti così? Quali saranno gli effetti sulla preparazione degli studenti? Per i due sindaci bellunesi continuare così non è più accettabile. A prescindere da quello che verrà predisposto dal governo per il dopo Pasqua, entrambi non hanno dubbi nel farsi promotori della necessità di una immediata riappertura delle scuole di ogni ordine e grado. Oltre al problema enorme della connettività che purtroppo ad oggi è ancora scadente e quindi non permette a tutti i ragazzi di poter frequentare la dadd in maniera seria. Infatti alcuni ragazzi vengono in comune dove c'è una connessione migliore rispetto alle proprie abitazioni. Essendo dal mio punto di vista un luogo sicuro dobbiamo riaprirla al più presto perché lo richiedono le famiglie ma anche una società civile deve avere come base la presenza all'interno delle scuole. Vaccine in fabbrica, le aziende bellunesi hanno risposto positivamente alla chiamata di Confindustria nazionale. Nei giorni scorsi abbiamo inviato a tutte le nostre aziende associate non solo una richiesta di disponibilità. La risposta è stata sicuramente positiva, siamo in attesa di capire i numeri. Le aziende bellunesi hanno risposto in massa all'appello di Confindustria nazionale di mettere a disposizione aree e spazi per la vaccinazione anti-covid. Lo hanno fatto le grandi realtà che si sono già distinte sin dall'inizio della pandemia per l'esecuzione dei tamponi e il contact tracing, ci dice Andrea Ferrazzi, direttore di Confindustria Belluno Dolomiti. A questo punto attendiamo le indicazioni che ci verranno da Confindustria nazionale che è in stretto contatto con il commissario disegnato dal Premier. La platea interessata dall'offerta vaccinale è ampia ed estesa non solo ai lavoratori ma anche ai loro familiari. Un passo avanti verso l'immunizzazione di massa auspicata in un momento in cui l'economia bellunese fa i conti con la pandemia. Per ora positivi quelli delle aziende associate a Confindustria anche se le criticità non mancano. Le vere criticità sono dal punto di vista organizzativo per le imprese perché soprattutto a seguito delle nuove disposizioni regionali sul contact tracing qualche problema organizzativo comincia ad esserci e speriamo che la regione intervenga quanto prima per chiarire questi aspetti. Il problema deriva da un'interpretazione restrittiva dei contatti che le imprese devono segnalare. Gli industriali attendono una delibera regionale volta a chiarire la questione. Al momento il rischio è che anche chi è stato in contatto per poco tempo e comunque con i dispositivi di protezione individuale addosso possa essere considerato un contatto stretto e quindi costretto alla quarantena. E questo avrebbe un impatto molto duro sulle nostre imprese. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. In chiusura come sempre il meteo. Arrivederci. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity. I tuoi serramenti esclusivi. Benvenuti al meteo. L'anticiclone si espande sull'Italia. Le temperature invertiranno la rotta e cominceranno ad aumentare regalandoci giornate del tutto primaverili. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 26 marzo. Sul Veneto avremo un contesto decisamente asciutto e soleggiato come vediamo. Il cielo si presenterà da sereno a poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane qualche addensamento sui rilievi ma senza alcuna conseguenza. Temperature come detto gradevoli. Minime comprese tra i 2 e i 6 gradi. Per quanto riguarda invece le massime la colonnina di Mercurio arriverà a segnare i 18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove la situazione sarà invariata. Tanto solo ovunque c'è lo sereno o con poche nuvi specie sui monti. Temperature minime tra 1 e 7 gradi. Massime sui 14-17 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento anche qui al massimo con qualche locale nuvoletta di passaggio. Temperature minime intorno ai 4 gradi. Massime sui 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni produciamo serramenti in linea con le tendenze del momento. Chiama per un appuntamento. Infinity, i tuoi serramenti esclusivi. Grazie a tutti. Inizial